Musica 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 e adesso abbiamo libertini con lucia corti anch'essi possiamo dire noti protagonisti qui a como basta l'edizione dura si questa la vedo proprio dura tant'acqua l'importante che c'è per tutti e non per qualcuno ma che conti attenzione a meno stasera nel primo giro sicuramente stasera bisogna non prendere su troppe ma comunque stare molto attenti perché tra fogliame vicino ce n'è e ti lasciamo libertini con lucia corti purti qui sul palco a chiudere le partenze della categoria categoria a 5 e adesso abbiamo quella che è considerata una storica categoria da n2 aperta da colui che viene considerato il favore non Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.